Si dimettono tiri in occhia ironica che sottolineano il cartellone della stagione non ha potuto vedere la luce per motivi indipendenti dalle nostre volontà e responsabilità. È polemica. Non vi è più traccia di Giuseppe Montana, 74 anni, operaio dell'ANAS in pensione, l'ultima volta è stato avvistato vicino al poliambulatorio di Ravanusa. Settimana prevenzione della Lilt, la Caritas inaugura a trame un'officina sociale, convegni degli ingegneri ed anche di agronomi forestali, torna a Mazzara l'Explos Blue Sea Land, domani specialisti a confronto sul tumore alla prostata. Volei femminile A2, la Sea Paragona prepara la sfida di domenica prossima in trasferta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il direttore generale della fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, Calogero Tirinnocchi, ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. Anche Aaronica, l'attore regista, presidente del Consiglio d'amministrazione, ha rassegnato proprie dimissioni. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Un vero e proprio terremoto, quello successo alla fondazione del Teatro Pirandello di Agrigento, dove ieri si sono registrate le dimissioni del direttore generale della stessa fondazione, Calogero Tirinnocchi. Dimissioni irrevocabili. La delibera è stata firmata anche in presenza di due componenti del CDA, il presidente Gaetano Aaronica e il consigliere di amministrazione nominato dalla regione Sicilia, Salvatore Nocera Bracco. Successivamente alla chiusura del CDA, anche il presidente Gaetano Aaronica ha rassegnato le proprie dimissioni. I due responsabili della fondazione hanno anche allegato il nuovo cartellone della stagione. Ma a loro detta non ha potuto vedere luce per motivi indipendenti dalle nostre volontà e responsabilità dove confluisce l'impegno verso il pubblico che ha seguito le attività del teatro. Giorni fa sulla fondazione Pirandello si è scatenato una vera e propria bufera mediatica dovuta alle modifiche del nuovo statuto. Tra i tanti interventi forti e decisi è stato quello dell'ex sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, che afferma come scacco matto in due mosse contro il teatro Pirandello e solo per obbedire a logiche spartitorie. Il Consiglio Comunale ad Agrigento ha votato una pagina a deterioro della prima repubblica. 12 consiglieri su 24 combatti soldatini di maggioranza, scrive Firetto, animati come per assalto alla Bastiglia, hanno votato due sostanziali modifiche allo statuto della fondazione Luigi Pirandello. Primo, l'aumento del numero dei consiglieri di amministrazione senza alcuna ragione. Infatti non è stato spiegato un solo motivo utile alla gestione della fondazione, inoltre in controtendenza con tutte le norme recenti che riducono i consigli di amministrazione da 5 a 3. Secondo punto, delineato da Firetto, hanno tolto alla fondazione il personale comunale e i fondi comunali, addossando altri costi alla fondazione. Due interventi per detta di Firetto inutili e costosi che porteranno a discussioni partigiane su chi dovrà mettere le mani sulla fondazione e alla riduzione della qualità degli spettacoli. Due modifiche continua Firetto apportate da soggetti che in effetti non abbiano mai visto a teatro e che intervengono su qualcosa di cui non conoscono le dinamiche, né i profondi cambiamenti apportati, né il risanamento attuato da persone dall'orizzonte di buon orizzonte morale. Persone che hanno portato il teatro fuori dagli scandali dal default, dalle chiacchiere, per riportarlo nei canoni della cultura e con i conti inattivo. Per fare quadrare il bilancio, continua l'ex sindaco, d'ora in poi si dovrà ricorrere a spettacoli di provincia o sperare nelle regalie di mamma regione. Cambia radicalmente la storia del teatro Pirandello di Agrigento, si fa piombare la città indietro di 30 anni, anche sotto il profilo della cultura. Nel mio intervento, continua l'ex sindaco, ho fatto rilevare in consiglio comunale che tutte le criticità che avevamo sollevate sono rimaste intatte, nonostante i vari emendamenti. Ementamenti che hanno la caratteristica soltanto dell'opposizione di tante impronte digitali, torna opportunamente il CDA un membro indicato della regione, ma per tutto il resto non cambia la sostanza. Hanno così aumentato da 3 a 5 i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 3 costituenti la maggioranza assoluta. Sono di nomina del sindaco, ma diventano 4 se non ci sono soggetti privati in grado di versare alla fondazione ben 150 mila euro in 3 anni per avere un posto in minoranza nel Consiglio di Amministrazione. Una barzelletta, continua Firetto, facciamo due conti, se 3, anzi 4 uomini con le stesse caratteristiche e in linea col sindaco voteranno a maggioranza, il teatro viene consegnato al sindaco o a chi per lui. Si conferme il rimborso spese, moltiplicato per i 5 componenti, ma soprattutto alla fondazione sono stati tagliati i fondi e deve farsi carico di tutto, anche del personale. I consiglieri erano soddisfatti di aver sparato alle gambe del teatro Pirandello, dicono che adesso dovrà imparare a camminare da sola, sarà finalmente autonoma. Tutto questo è grottesco per l'ex sindaco di Agrigento, non sanno che per fare un buon teatro occorre rendere difficile la vita a chi la vuole lottizzare. Qualche consigliere di prima nomina dice che anche di rammaricarsi per non avere potuto ragionare, a mente lucida, ma è folice di avere votato. D'altra parte, come si dice, è stato un delitto d'imbeto, la responsabilità è una parola troppo difficile da cogliere. Ho sollevato un problema di legittimità del voto del Consiglio Comunale. Pensano, dice Firetto, di averle fatta franca, ma c'è un pubblico che ama profondamente il teatro e che quando diluvia non teme di bagnarsi i piedi. Dico a loro, conclude Firetto, che meritano un liete fine. La storia non è ancora finita, il teatro riuscirà a liberarsi di questi giochetti e potrà continuare a fare cultura. A Ravanusa, dal pomeriggio di ieri ed ancora al mattino di oggi, non vi è più traccia di Giuseppe Montana, 74 anni, operaio dell'ANAS, in pensione. Lui si è allontanato dalla sua abitazione e l'ultima volta è stato avvistato vicino al poliambulatorio di Viale Lauricella. Chiunque ne avesse notizie, contatti le forze dell'ordine. Quali lavori alla stazione bassa di Agrigento? Il servizio di Eugenio Cairone. Gli operai sono tornati sul viadotto della statale 122 che sovrasta la stazione bassa di Agrigento e anche questa volta non c'è alcun comunicato che indichi il tipo di lavori che si stanno eseguendo con ripercussioni sul traffico regolamentato dal semaforo. Saranno sicuramente dei lavori necessari e ogni volta si spera che siano lavori che interessino la messa in sicurezza della strada con l'installazione di donne e barriere. Al riguardo l'ANAS dovrebbe dire chiaramente se ha intenzione di fornire il viadotto di barriere di sicurezza efficienti, visto che il discorso sempre ha caduto nel dimenticatoio. Più volte ci siamo occupati dell'argomento, ma nessuno dall'ANAS appunto ha dato seguito alle segnalazioni. Così si va avanti nell'indifferenza assoluta, in un tratto di strada tra l'altro interessato da alcuni dossi pericolosi in piena curva, in direzione nord, nei pressi del cantiere aperto in questi giorni. Quella delle barriere di sicurezza dovrebbe sicuramente costituire una priorità assoluta e non c'è giustificazione che tenga. Settimana della prevenzione e iniziativa della Lilt anche ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. La Lega Italiana per la lotta contro i tumori per tutto il mese di ottobre è impegnata nella campagna nazionale Nassorosa, dedicata in particolare alla prevenzione del tumore al seno. La campagna ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori alla mammella, informando il pubblico femminile anche sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare. Samani, il camper della Lilt territoriale di Agrigento, era presente presso il mercato del venerdì in via La Malfa. Quest'anno per quanto riguarda il mese rosa abbiamo pensato di recarci in alcuni mercatini rionali della provincia di Agrigento. Già siamo stati a Sciacca, a Ribera e ora concludiamo con Agrigento. Agrigento è una sede che risponde sempre bene, dove vengono negli nostri studi medici tante persone, perché quello che io ho sempre ripetuto è la prevenzione molto importante, perché se noi riusciamo a trovare questo killer all'inizio, come dice il Presidente Nazionale Schitturli, il Professore Schitturli, si può anche guarire. Quindi noi ci troviamo qui e vi prego di venire a visitare la nostra sede in via Empedocle. Verrete accolte dalle nostre volontarie, quindi venite perché la prevenzione è molto importante. Soprattutto noi ci rivolgiamo alle giovani, perché basta una visita e un'ecografia. Voi sapete che il servizio nazionale per quanto riguarda la mamografia è gratuita da 46 anni in su. Quindi prima di questa data venite da noi a Sottopauri per vedere come è il vostro seno e anche i nostri senologi vi educheranno ad avere padronanza del vostro corpo, che è molto importante. Grazie. Diffondere la cultura e la prevenzione, perché le diagnosi precoci sono importanti. Da 100 anni che la LILTE è impegnata alla prevenzione delle malattie oncologiche. Devo dire che leggendo anche il volantino hanno molto ampliato quelle che sono le tematiche. Hanno comprato nuovi macchinari all'avanguardia proprio qua nella provincia di Agrigento a giugno. Ecolografo, Samsung, molto specializzato. Adesso le visite si sono ampliate. C'è pure il servizio di otorino, laryngolatria, cardiologia, pneumologia. Io invito chiunque a venire alla LILTE perché attraverso la prevenzione si arriva prima della malattia e quindi si salvano dalle vite umane. Invito tutti a farsi visitare in maniera preventiva, a fare tutte le visite che richiedono opportune perché la salute della vita umana è importantissima. Quindi diffondiamo quella che è la cultura della prevenzione. Questa è la terza o la quarta giornata che effettuiamo nei mercatini. Diciamo che abbiamo una risposta veramente eccellente da parte delle persone dove non riusciamo ad arrivare con le nostre sedi perché ci sono, lo sappiamo tutti, nella provincia di Agrigento ci sono paesi dove è difficile riuscire a fare le visite e quindi attraverso il camper ma anche attraverso altri mezzi che noi abbiamo possiamo arrivare anche a fare la prevenzione. Prevenire è meglio che curare, si dice sempre come slogan. Il nostro scopo è questo, cercare di inculcare la prevenzione nelle donne, cercare di far capire che è fondamentale fare prevenzione perché ci salva la vita e quindi noi diciamo a tutte le ragazze di iniziare a fare le visite senologiche con ecografia e poi dai 40 iniziamo a fare la mammografia perché trovare un tumore al di sotto dei due centimetri può salvarci veramente. Campania Nassonorosa come ogni anno è importantissima, quest'anno abbiamo deciso di fare prevenzione, farci vedere qua nei mercatini delle varie città della provincia di Agrigento e quindi stiamo facendo questa cosa. Devo dire che c'è un afflusso importante e consigliamo a tutte le donne di fare prevenzione perché la prevenzione può salvarci la vita. Inaugurata ieri ad Agrigento un'officina sociale dal titolo Trame dove le storie di uomini e donne si intrecciano per dare vita ad un tessuto ricco di senso e umanità e un insieme di iniziative, servizi, strutture, progetti gestiti da operatori e volontari che costituiscono la risposta della comunità cristiana ai vari bisogni rilevati nel territorio. Arturo Cantella Inaugurato ieri in via Tenea 301 alla presenza del vicario generale Don Giuseppe Cumbo e di Valerio Landri responsabile della Caritas Trame, un'officina sociale dove le storie di uomini e donne si intrecceranno per dare vita a un tessuto ricco di senso e umanità. Il centro gestito dalla Caritas di Ocesana Grigentina ha realizzato al suo interno una sartoria sociale, un suo spazio di formazione per fare esperienza interculturale, uno sportello di orientamento al volontariato con appuntamenti della biblioteca vivente i cui libri umani potranno raccontarsi e consegnarsi ai giovani lettori. Trame è finanziata con i fondi dell'8x1000 all'interno del progetto HOLD, un progetto finalizzato a favorire l'inclusione sociale di migranti residenti sul territorio agrigentino. Trame è uno spazio che nasce grazie a un progetto finanziato da Caritas Italiana, il progetto HOLD che ha l'obiettivo di favorire l'integrazione interculturale all'interno del nostro contesto. Quando si parla di intercultura non si parla solamente di integrazione del migrante nella cultura italiana ma di valorizzazione della molteplicità delle culture che compongono ormai questo contesto. Le attività che verranno vita in questo spazio avranno proprio questa finalità. Cominciare con il laboratorio di sartoria che partirà proprio lunedì prossimo il 25 novembre in cui le donne che verranno coinvolte di diverse nazionalità oltre ad imparare l'arte della sartoria avranno anche la possibilità di condividere le loro storie. Il nostro compito sarà proprio quello di valorizzare le storie loro e i loro percorsi di migrazione ma anche il corso di italiano, di inglese che organizzeremo in questo spazio così come anche la scuola di volontariato, come anche la biblioteca vivente e tante altre attività avranno tutte l'obiettivo di valorizzare le storie di ciascuno perché riteniamo che le storie di tutti sono meritevoli di essere raccontate e la storia di ciascuno di noi può essere interessante per qualcun altro. Il centro è aperto tutti i giorni e sarà fruibile da tutti? Sì, il centro è aperto tutti i giorni e stiamo facendo in modo di distribuire le diverse attività nell'arco della settimana in modo che possiamo sempre tenere aperta questa struttura che chiaramente sarà aperta anche grazie al contributo dei volontari. L'obiettivo è quello di creare in Via Tenea uno spazio di incontro della Caritas, un luogo più agevole da raggiungere. Vediamo qui delle macchine da cucire che quindi vuol dire che l'attività si svolgerà anche qui? Sì, questa sala è proprio la sala che attualmente destineremo al laboratorio di Sartoria. L'abbiamo già allestita, abbiamo già fatto altre edizioni nell'altra sede della Caritas, però per noi farla realizzare in Via Tenea ha un significato maggiore perché è davvero un luogo di passaggio, un luogo in cui sarà più facile organizzare anche degli incontri con la società civile perché le storie delle persone che lavoreranno, si formeranno in questo laboratorio di Sartoria possano davvero incontrare le storie di tante altre persone. Rappresenta anche un momento di riapertura dopo il lockdown? Sì, per noi è fondamentale, questo momento abbiamo voluto celebrarlo con questa inaugurazione proprio per questo motivo. Finalmente si torna a svolgere delle attività all'aperto, diciamo così, quindi aperto al pubblico. Saremo restando che chiaramente finché sarà necessario, finché la legge lo prescriverà, manterremo tutte le attenzioni che la legge prescrive. È importante soprattutto dopo la pandemia che abbiamo vissuto, dove abbiamo sperimentato quanto siano importanti le relazioni che dobbiamo curare tra di noi e quindi creare uno spazio nel quale ci si possa incontrare, dove in maniera informale ci si possa anche formare attraverso anche i corsi di formazione. Penso che sia abbastanza importante, anche perché permetterà l'incontro di storie diverse, soprattutto di quelle persone che qui si incontreranno, come diceva giustamente anche Valerio, il direttore della Caritas, perché queste diverse trame possano diventare poi alla fine solo una grande storia che è poi quella della comunità cristiana e non solo cristiana. Il trame assume vari significati, no? Sì, principalmente quello dell'incontro, l'incontro di una diversità che non deve mai farci valura ma che ci deve aiutare sempre più comunque a tessere relazioni vere che ci permettano di crescere comunque nella comunione tra di noi. Il luogo è aperto a tutti, chi vuole venire? Sì, i destinatari sono coloro che si lasceranno coinvolgere dalle attività che Caritas propone e anche il fatto stesso di essere ubicata nella Via Tenea è anche l'occasione per poter presentare anche alla città quelle molteplici occasioni di incontro che Caritas e Fondazione Mondo Altro propongono alla comunità stessa. Ingegneria o follia, nuove frontiere per le metodologie didattiche e tecnologiche questo è il titolo di un seminario che si è svolto ieri ad Agrigento. Vediamo. Si è svolto presso l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento un seminario sul tema Ingegneria o follia, nuove frontiere per le metodologie didattiche e tecnologiche che hanno visto il coinvolgimento di tanti prestigiosi relatori e ospite dell'Ordine da tutta la provincia. I lavori sono stati diretti dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso che online si è collegato anche con la senatrice Barbara Floridia, sottosegretario di Stato all'istruzione, con l'ingegnere palermitano Leonardo Durante, docente unico finalista del Global Teacher Prize 2021. Quindi a seguire una tavola di rotonda mista con il metodo delle domande e rispondi, con l'ingegnere Calogiro Cucchiara, docente universitario, l'ingegnere Antonino Cellura, Francesco Pira, esperto in comunicazione e sociologo, Sandra Scicolone, dirigente scolastica, oltre ai colleghi ingegneri che lo hanno seguito di persona presso la sede dell'Ordine. È una giornata storica per l'Ordine di Grigento per tantissimi motivi, sia per questa qualificatissima autorevole e prestigiosissima presenza, qualificata anche perché è entrata nel merito del tema, delle nuove tecnologie, del modo nuovo di insegnare. Noi ingegneri siamo anche docenti, quindi ha anche lei riconosciuto l'importante ruolo degli ingegneri nel mondo della scuola, lei si è spesa tantissimo in questo senso, abbiamo dibattuto e fatto tante importanti riflessioni su argomenti che possiamo approfondire nel proseguo. Tra gli ospiti c'era il professore Leonardo Durante che è tra i 50, l'unico italiano rimasto ancora in lista per vincere il premio di miglior professore del mondo, è un ingegnere, è siciliano, ha fatto l'Università di Palermo come noi e quindi è stato un motivo d'orgoglio averlo qui ospite in questo momento. La sottosegretaria lo ha invitato a venire al ministero e lei stessa ha detto che lo andrà a trovare perché i suoi brevetti, i brevetti dei suoi allievi stanno facendo furore, sono convoluti da tutte le aziende e poi la cosa importante per parlare di ordine degli ingegneri direi che è un momento storico anche perché avviamo oggi per la prima volta nella storia la formazione di tipo misto, cioè persone presenti in sala, colleghi che assistono in diretta, un numero limitato anche per motivi di Covid e ben 300 in questo momento sono collegati in tutta la provincia e anche nel resto d'Italia iscritti all'ordine di Agrigento, stanno apprezzando tantissimo questo evento che è veramente il primo, ci auguriamo, di tanti interventi, eventi importantissimi che daranno sicuramente la possibilità a tutti gli iscritti della provincia di Agrigento di accrescere le loro competenze professionali. Sono previsti altri qualificati interventi durante questa riunione? Sì, saranno previsti la tavola rotonda, c'è un momento in cui sarà presente anche il professore Pira che è anche docente universitario a Messina, è portavoce del rettore, è responsabile di un importantissimo progetto Erasmus con l'Università Polacca, lui è un esperto di comunicazione, ha scritto tanti libri, l'ultimo è quello Figli delle App, sarà presente anche la professoressa Sandra Ciccolone per conto dell'Associazione Nazionale Presidi, lei è componente dello staff nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi, poi abbiamo ovviamente il presidente della commissione formazione dell'ordine che è il professore Cucchiara e il presidente della commissione docenti dell'ordine che è il professore Antonio Nino Cellura di Italicata. Ecco, momenti importanti che avranno anche un suo seguito? Sicuramente perché faremo degli approfondimenti e già ci siamo dati appuntamento a breve per rilanciare il tema dei docenti anche sotto altri punti di vista come per esempio quello della Cassa di Previdenza, della gestione separata, noi ingegneri e docenti abbiamo più volte evidenziato che c'è una sorta di discriminazione in questo senso perché ci viene inibita la l'iscrizione a INARCAS con una serie di problematiche che evidentemente vanno risolte quanto prima dall'interesse di tutta la categoria degli ingegneri ed in particolare degli ingegneri docenti. Allo spazio Temenos in via Pirandella d'Agrigento il convegno sul tema agricoltura biologica e innovazione e sfide globali patrocinato dall'ordine degli agronomi e dei dottori forestali di Agrigento. Vediamo. Oggi la presentazione del convegno sul tema agricoltura biologica e innovazione e sfide globali, un'iniziativa del gruppo operativo dell'isola Biosicilia qui ad Agrigento presso lo spazio Temenos. L'agricoltura biologica oltre alla sua missione principale che è quella di sfamare l'umanità può dare un importantissimo contributo al contrasto delle principali sfide globali, in testa i cambiamenti climatici, contribuisce ad assorbire il 35% delle emissioni. L'agricoltura che sfama i 7 miliardi di abitanti del mondo è un settore che consuma parecchie energie e che esercita importanti emissioni. L'agricoltura biologica riesce a contenere questa emissione e a dare un importante contributo. perché? Perché nella grande rete di biodiversità e di sostanza organica che è necessaria per praticarla imprigiona l'anidride carbonica. Allora questa ed altre sfide globali come l'erosione della biodiversità ma anche come le questioni economiche legate al mondo rurale eccetera fanno parte di questo importante progetto che si chiama biologico A++ che prefigura un biologico ancora più biologico cioè capace di dare cibo sano ma anche sostenibile per il modo in cui viene realizzato e che non fa uso di prodotti anche che sia pure ammessi sono il frutto di una tecnologia industriale. Quindi questo progetto cosa fa? Raccoglie tutte le informazioni tecniche, le innovazioni che sono disponibili a livello internazionale e le introduce nella nostra rete di aziende biologiche siciliane che ricordo sempre è la più potente rete regionale di aziende biologiche con oltre 200.000 ettari di superficie certificate e oltre 12.000 aziende certificate. Sì siamo particolarmente contenti di partecipare a questo evento, l'abbiamo patrocinato anche come federazione ed è importante perché ci dà l'opportunità di capire come per mezzo di una buona agricoltura dalla tavola, dalla preservazione dell'ambiente, dalla tutela dell'ambiente si arriva anche alla tutela della salute umana. Si può fare agricoltura biologica e si deve fare pensando globalmente agendo individualmente si dice. Viviamo in una condizione di grande transizione di rispetto dell'ambiente dove alcune tecniche legate all'innovazione e alla buona agricoltura possono preservare la biodiversità, possono preservare una risorsa importante, non infinita che è quella dell'acqua. Tutte tecniche che consentono di avere una migliore cooperazione sinergica nel territorio che dà sicuramente un'economia giusta, nuova, che rispetti quelle che sono le nuove condizioni del Green Deal, del Farm to Fork, quella che riguarda la sostenibilità ambientale che chiaramente deve avere pure un supporto economico in una nuova transizione verso l'economia circolare. Di questo oggi si sta parlando, si sta parlando anche con i prodotti di trasformazione della terra che danno anche un valore aggiunto alla nostra economia e che sono un fioro all'occhiello della nostra regione. La presenza degli agronomi in manifestazione del genere penso che sia un punto fondamentale, non solo perché interpreti di questa rivoluzione culturale rispetto alla linea guida sul biologico, oltre che nell'azione vera e propria da praticare. Sono importanti le figure degli agronomi perché attraverso l'ausilio di elementi tecnici e scientifici si possono non solo introdurre nuove tecniche che consentono di avvicinare ad una logica più sana di ogni tipo di processo la funzione professionale che noi svolgiamo e nello stesso tempo garantire la sanità dei prodotti nella migliore forma. Gli agronomi sposano per intero questi processi di innovazione e si adeguano a quelle che sono le nuove evoluzioni di pensiero partendo da un fondamento tecnico che è quello culturale per la formazione diretta. Vogliamo essere protagonisti, siamo al centro di questo processo perché riteniamo che in questa direzione si possa fare tanto. E per il decimo anno consecutivo torna ad organizzarsi a Mazzara del Vallo Blue Sea Land, la Kermess Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente che quest'anno si svolgerà dal 27 al 31 ottobre. Quattro aree espositive, oltre 40 convegni, tavole rotonde, workshop e oltre 25 cooking show aperti al pubblico che animeranno il centro storico della città di Mazzara del Vallo. Per il decimo anno consecutivo torna ad organizzarsi a Mazzara del Vallo Blue Sea Land, la Kermess Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell'Africa e del Medio Oriente che quest'anno si svolgerà dal 27 al 31 ottobre. Quattro aree espositive, 40 convegni, tavole rotonde, workshop e 25 show cooking aperti al pubblico che animeranno il centro storico della città di Mazzara del Vallo. Quest'anno Blue Sea Land torna con un'edizione mista, dando ampio spazio agli eventi dal vivo, a organizzarla il distretto della pesca e della crescita Blue Cosvap, centro di competenza distrettuale e osservatorio della pesca mediterranea, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Dipartimento degli Affari Ex-Regionali della Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Dipartimento Pesca Mediterranea. Specialisti sul carcinoma alla prostata, il tumore più frequente negli uomini, si sono dati appuntamento ad Agrigento all'Hotel della Valle domani 23 ottobre per la convention la gestione pluridisciplinare del carcinoma prostatico. Dalla ricerca alla pratica clinica, il carcinoma prostatico rimane il tumore più frequente negli uomini, tanto che nei soggetti di sesso maschile rappresenta oltre il 20% dei tumori diagnosticati dopo i 50 anni. Ogni anno in Italia vengono diagnosticati più di 35.000 nuovi casi di tumore alla prostata. A guidare il convegno sarà il responsabile scientifico Antonino Savarino, primario dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'innovazione delle tecniche chirurgiche e radioterapiche ed il maggior numero di farmaci oggi disponibili rendono necessaria una rivisitazione dei percorsi diagnostici terapeutici del carcinoma prostatico ed un approccio pluridisciplinare nella gestione di questa neoplasia. Tale gestione deve necessariamente coinvolgere oncologi, urologi, radioterapisti che insieme devono ricucire il trattamento su ogni singolo paziente. La necessità, commenta il dottore Savarino, di un percorso diagnostico-terapeutico condiviso che coinvolga ospedale e territorio non ha solo lo scopo di migliorare la qualità dell'assistenza clinica ma anche di razionalizzare le limitate risorse finanziarie evitando sprechi inutili in ambito diagnostico e terapeutico. Adesso la cronaca, l'Icata è stato arrestato un 37enne di origini marocchine per droga e ad agrigento furto all'istituto Colbe. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa della compagnia di Licata nel corso dei quotidiani servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti hanno arrestato un cittadino di origini marocchine di anni 37, disoccupato, residente a Licata, coniugato, ritenuto responsabile dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo ascisce e metadone. L'uomo è stato controllato mentre percorreva a piedi la via Garibaldi. L'atteggiamento alquanto circospetto ha indotto i militari della sezione operativa di Licata a eseguire una acquisizione personale. All'interno del suo marsupio aveva agganciato alla vita. Sono stati rinvenuti 40 grammi di ascisce, costituiti da due singoli dosi di circa un grammo ciascuna e da mezzo panetto più grande, il tutto confezionato con del celofan. I carabinieri di Licata hanno così individuato il mezzo in uso al soggetto un furgone Iveco Daily, parcheggiato poco distante, all'interno del quale è stato rinvenuto un altro mezzo panetto di fumo di circa 40 grammi e un flacone di metadone di 20 milligrammi, detenuto senza alcuna prescrizione medica. Quindi, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida, mentre lo stupefacente sequestrato nei prossimi giorni sarà analizzato per stabilire il quantitativo di principio attivo contenuto. Intanto sempre ieri i carabinieri di Agrigento, avvisati dalla collaboratrice dell'Istituto scolastico comprensivo Anna Franchi, che ha denunciato presso la stazione di Agrigento il furto ai danni del plesso denominato Colbe, sito incontrato a San Michele. Nella circostanza si è appreso nel corso della notte del 20 ottobre che i gnoti sono penetrati all'interno dell'Istituto, forzando una finestra e danneggiando le porte interne alle aule didattiche, dove sono stati asportati 5 computer notebook marca ASUS. Il danno è in corso di quantificazione e i militari della stazione di Agrigento hanno eseguito un primo sopralluogo sulla scena del reato per acquisire eventuali tracce o indizi utili all'individuazione dei responsabili. La Corte d'Appello di Palermo ha depositato la sentenza con cui l'ex senatore di Forza Italia, Antonino Dalì, è stato recentemente condannato a sei anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Vediamo. Da lì ha manifestato la propria disponibilità verso Cosa Nostra dai primi anni Ottanta del secolo scorso fino agli inizi dell'anno 2006 e comunque non vi è prova di una condotta di desistenza dell'imputato incompatibile con la persistente disponibilità di esercitare le proprie funzioni e da spendere le proprie energie in favore del sudalizio mafioso, lo scrivono i giudici della Corte d'Appello di Palermo nelle motivazioni della sentenza con cui, poco prima dell'estate, l'ex senatore Berlusconiano è stato condannato a sei anni di carcere per concorso esterno in associazione. In 138 pagine si riassumono così i rapporti consolidati con i messi in denaro dal vecchio don Ciccio, campiere dei terreni della famiglia Dalì, alla vicinanza al figlio Matteo. Il politico eletto con Forza Italia nel 1994 ha seduto al Senato per ben vent'anni, intrattenendo relazioni con Cosa Nostra anche durante i cinque anni in cui è stato sottosegretario agli interni del governo di Silvio Berlusconi dal 2001 al 2006. Da lì ha certamente assunto degli impegni seri e concreti a favore dell'associazione mafiosa e ciò lo si può desumere sia dalla sua comprovata e ventennale disponibilità a spenderarsi in favore di Cosa Nostra, così si legge, nella sentenza emessa al termine di un lungo processo. Riportiamo i fatti appresi dai colleghi del Fatto Quotidiano. Secondo i giudici da lì ha concluso nel 2001 un patto l'ennesimo politico mafioso con Cosa Nostra in forza del quale il suo dalizio gli ha garantito l'appoggio elettorale che ha consentito all'imputato di essere nuovamente eletto al Senato, elezione che poi ha costituito da viatico per l'acquisizione dell'incarico di sottosegretario al Ministero dell'Interno. Sulla base di questo assunto, secondo la Corte preseduta dalla giudice Antonio Napoli, deve ritenersi che il reato in oggetto è stato commesso dal dalì fino al 2006 e quindi la permanenza è cessata dopo l'entrata in vigore della legge 251 del 2005, cioè l'ex Cirielli. inoltre nelle motivazioni depositate in questi giorni in cancelleria si arriva alla conclusione che essendo cessato il reato nel 2006 esso non era prescritto quando in data 11 maggio 2012 è stato disposto il reato abbreviato con la conseguenza che da quel momento iniziava a decorrere un ulteriore ventennale prescrizionale che non può ritenersi ispirato al momento della presente decisione. Una valutazione importante se si pensa alle varie tappe del processo all'ex senatore di Trapani. Nel primo processo il gruppo di Palermo infatti lo aveva assolto per i fatti successivi al 94 dichiarando prescritti quelli compiuti in un periodo precedente a quella data tra cui la compravendita fittizia di un terreno in contrada zangara diretta da Matteo Messina Denaro come raccontato dal pentito Francesco Geraci. Già nel 96 durante un processo a Trapani per diffamazione l'ex amico dell'attuale latitante raccontava di aver intrattenuto rapporti con Dalì il banchiere forse ora è onorevole per ottenere la restituzione in contanti dei pagamenti che aveva ricevuto con degli assegni. Un dettaglio confermato anche dal fratello di Geraci Tommaso rispetto alla riconsegna del denaro ad uno dei Dalì uno con la barba che forse fa il senatore dicevano. La Didia di Palermo tuttavia archivio l'inchiesta ritenendo di non poter identificare il Dalì indicato dei due fratelli. La vicenda salterà fuori nel nuovo processo per cui il politico era stato assolto anche in appello. I giudici della Cassazione avevano anche dato delle particolari indicazioni tra cui un elenco di testimoni da ascoltare in aula due su tutti il collaboratore di giustizia Antonino Birritella e l'ex economo della diocesi di Trapani Donnini Trappiedi. In sintesi i giudici evidenziano una posizione più prudente che può essere sicuramente il frutto di una valutazione di opportunità mentre non è certamente da ricondurre ad una decisione del Dalì di non favorire più il sudalizio mafioso e di soggetti collusi con esso. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. L'istituto odierna di Palma di Montechiaro alla Flight Experience, due docenti partecipano al corso di formazione per il pilotaggio droni che si è svolto a Roma organizzato dall'istituto Einaudi. C'è il servizio. Un'esperienza formativa nuova, diversa. Chi ha visto protagonisti i docenti di scuola secondaria di secondo grado provenienti dalle scuole più attive e innovative d'Italia, tra cui l'odierna di Palma di Montechiaro. Due professori agrigentini hanno partecipato alla Flight Experience, uno dei progetti del percorso Officine STEAM, organizzato dall'istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi di Roma, scuola polo nazionale del premio Scuola Digitale, una scuola visionaria avveneristica. Pronta ad accogliere il nuovo e ad attivare delle reti metodologiche per generare il futuro, essere al passo con i tempi, accogliere le sfide del millennio, però per fare ciò, per fare questo, è necessario essere docenti motivatori. Non è più solo incentrare la scuola su lezioni trasmissive fondate sulle conoscenze, ma relazionarsi continuamente attraverso l'empatia alle studentesse e agli studenti. Potremmo definire la scuola come un luogo di formazione non solo per gli alunni, ma per tutti i docenti? Esattamente questo, formare i formatori. La formazione è per tutti e non solo per alcuni, quindi cominciare ad estendere anche il concetto di apprendimento che di fatto riguarda anche noi docenti. Voler introdurre all'interno del contesto scolastico un approccio nella relazione insegnamento-apprendimento che fosse un po' più direzionata verso l'empatia, verso l'uscire dalla comfort zone da parte dei docenti e da parte degli studenti. Ed in modo particolare la flight experience, pilotaggio droni, quindi il nome ci fa già capire che appunto l'esperienza era infrontata sulla formazione dei docenti rispetto al pilotaggio di un drone, ha voluto rappresentare proprio questo, cioè uscire dal contesto scuola per come siamo abituati a pensare e a vedere il contesto scuola, per ritrovarci in un ambiente molto più conviviale dove abbiamo voluto enfatizzare soprattutto l'aspetto empatico, relazionale della sfida perché abbiamo utilizzato il campo volo della storta e abbiamo raccolto dei docenti proprio per far provare loro l'esperienza del pilotaggio droni, vivendo però questa formazione in un ambiente totalmente diverso. L'organizzazione è stata particolare perché non è stata la classica location, la classica sala di hotel, ma un campo volo, quindi sapeva più di scampagnata tra amici hanno curato molto l'aspetto delle relazioni sociali e quindi si è creato un bel clima una sera c'è stato pure un momento di canto con la chitarra, come se fosse appunto una scampagnata tra amici e questo è importante perché la scuola italiana deve andare verso l'innovazione e verso il cambiamento creare gruppo, creare relazioni fra docenti è importante, oltre all'aspetto didattico è stata appunto l'esperienza di imparare a pilotare i droni, utilizzare la fotogrammetria per portare un oggetto qualsiasi che ci circonda a un modello 3D da utilizzare all'interno della didattica e all'interno delle scuole. Permettendo a noi docenti partecipanti di approcciare al volo del drone attraverso esercitazioni pratiche e laboratoriali in formato STEAM per me, che per la prima volta mi sono approcciato a questo mondo, è stata un'esperienza fantastica Il nostro istituto già da anni è impegnato nella formazione dei docenti e quindi è cascata anche nella promozione della formazione degli alunni sulle nuove tecnologie sia dal punto di vista delle risorse strutturali che delle risorse proprio legate al materiale umano nella consapevolezza che forse ancora di più oggi, a seguito della pandemia quello che è nato in maniera quasi necessaria, e mi riferisco alla didattica digitale integrata per rispondere a quella che era un'emergenza sanitaria, deve necessariamente diventare la pratica quotidiana della didattica innovativa, una conoscenza che deve servire a lungo termine anche per l'immissione nel mondo del lavoro Aumenta ancora il costo del conferimento dei rifiuti in discarica Aumenta ancora il costo del conferimento dei rifiuti in discarica Il deputato regionale Giuseppe Laccoto fa sapere che è stata inviata ai comuni da parte della Sicula Trasporti, la società che gestisce la discarica di Lentini in cui si conferiscono i rifiuti indifferenziati di quasi tutti i centri della Sicilia orientale L'introduzione di un'ulteriore tariffa di conferimento, pari a 334 euro a tonnellata per i rifiuti che dovranno essere trasportati fuori regione Ma come si pensa che si possa andare avanti così? Non solo non si trovano discariche per l'indifferenziato e impianti per il conferimento dell'umido e dell'altra differenziata Non solo si doveva già fare i conti con i costi altissimi Adesso giunge un altro salasso per i comuni e per i cittadini che pagano il servizio, commenta ancora l'onorevole Laccoto che preannuncia un'interrogazione parlamentare urgente I sindaci combattono la battaglia quotidiana per l'affermazione della raccolta indifferenziata per abbassare tariffe e costi ma per rendere virtuosi i propri comuni e poi arrivano queste batoste che ci fanno tornare al punto di partenza come un cane che si morde la coda Il piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è diventato una sorta di araba fenice Che vi sia, ciascuno lo dice Dove vi sia, nessuno lo sa L'onorevole Laccoto era già intervenuto con altre iniziative parlamentari per chiedere l'intervento finanziario immediato della regione Ci sentiamo presi in giro come amministratori e come cittadini conclude l'onorevole Laccoto Ma siamo giunti a un punto di non ritorno Occorrono provvedimenti straordinari e urgenti per evitare che questa situazione finisca per soffocare tutti Volei femminile a due domenica prossima alle ore 16 al paramarignano la OMAG MT ospiterà la neopromossa SEAP Dalli Cardillo di Aragona Vediamo Credo che la tensione sia la base di tutte le partite perché anche a Olbia siamo entrate comunque tese un po' più determinate ma tese è vero che la tensione probabilmente anche io nelle mie compagnie l'ho avvertita di più domenica ma metti l'esordio in casa metti davanti al tuo pubblico tante situazioni nuove sicuramente un po' si è avvertita però durante la partita diciamo che ci siamo sciolte infatti secondo me alla fine forse non è stata una partita di un livello tecnico da entrambe le parti notevole però è stata una partita combattuta e diciamo che questa è stata appunto la prova che la tensione siamo riusciti un attimo a smorzarla è chiaro che lo sappiamo benissimo che in tante situazioni la nostra squadra ha poca esperienza e in quello dobbiamo essere bravi a riuscire a fare scusate la ripetizione ma esperienza partita dopo partita per riuscire a far sì che entriamo in campo appunto con l'idea di divertirci perché dobbiamo dare tutto quello che viene divertirci perché ci stanno squadre comunque allestite per vincere e dobbiamo giocare con spensieratezza e tranquillità cosa che ancora non riusciamo a far bene ma stiamo lavorando per riuscire a farlo adesso poi in questa partita anche il tecnico Vincoli era abbastanza critico mi sembra che non è una demanda a dire tra le altre cose sei lamentato il fatto che non abbiamo mai giocato con le centrali con una delle centrali una critica che senti tu particolarmente o è dovuta a qualcosa? una critica nei miei confronti? no, non credo nel senso che penso che sia un discorso il mio ruolo è fondamentale ma penso sia un discorso generale di squadra lui si riferisce a questo e lo ripetiamo ogni martedì dopo le partite che obiettivamente la mia intesa con le centrali ancora non è ottimale e sicuramente se riusciamo a far crescere questo fondamentale o questa intesa sicuramente sarà un gioco anche più bello e riusciamo a divertirci di più e anche più complicato per gli avversari però penso che sia una critica generale relativa magari a tante situazioni perché anche il gioco con i centrali dipende da tante altre cose che stanno dietro non soltanto obiettivamente da me ma sicuramente io devo riuscire a lavorare di più in settimana per migliorare questo aspetto che è fondamentale e come hai detto tu comunque Stefano l'ha rimarcato e continua a rimarcarlo anche a noi quindi non la prendo come una critica nei miei confronti ma come un diciamo spronare per riuscire a risolvere la situazione un'altra cosa di questo aspetto che abbiamo in casa la Negri che è in questo ruolo ci hai sentita coinvolta nel gioco come avresti voluto ecco fai un po' di autocritica e soprattutto anche parlare degli effetti positivi che hanno dato bene nella prima partita allora sicuramente sono state due partite complicate perché sicuramente c'è un livello più alto rispetto a quello per esempio a cui ero abituata io a giocare ci sono palle molto più dritte molto più tese e di conseguenza è anche più difficile per noi centrali comunque andare a chiudere a muro noi cerchiamo comunque sempre di entrare in campo scendere in campo determinate con tanta grinta e specialmente in questa partita che ci attende forse dovremmo cercare di mettere qualcosa che è mancato in queste due partite di campionato e come diceva Vale negli allenamenti comunque ci stiamo lavorando sull'intesa e sulla sintonia tra le compagne e soprattutto tra appunto palleggiatore e centrale e stiamo cercando sempre di crescere sempre di più cercare di trovare soluzioni a tutte le situazioni di partita nelle palle in gioco anche perché forse non è mancato tantissimo a raggiungere poi l'obiettivo della vittoria sia nella prima partita quando avevate vinto i primi 2-7 poi è successo qualcosa forse avete ecclata l'attenzione pensando che la meta fosse vicina e anche contro la Sigel siete state comunque sempre impianciate anche se loro erano avanti nei primi 2-7 anche nel terzo che poi avete vinto però comunque non vi ha staccate rimanevate sempre in partita però c'era sempre qualcosa che poi alla fine mancava per fare quel passo in più qual è può essere questo passo? sì come ho detto prima probabilmente è mancato quel qualcosa che doveva esserci nelle prime due partite di campionato magari metterci un po' di attenzione in più su tutte le palle cercare di evitare errori cercare di trovare sicurezza sulle palle in cui appunto siamo un po' più incerte quindi provarci crederci sempre su ogni pallone e cercare di trovare soluzioni alternative durante tutto il corso della partita sicuramente è un'attenzione che dovrete tenere sempre altissima ma è un'attenzione in questo senso ci vuole adesso una vittoria per il morale intanto poi al di là della Cassini e poi al di là di venire a me qualcosa sì sicuramente come avete le vostre avversarie le prossime avversarie? allora è una partita complicata come del resto lo sono state le prime due partite la squadra che andremo ad affrontare è un gioco molto veloce e noi dovremo cercare di scendere in campo determinate e grintose cercare di mettercela tutta combattere su ogni pallone e cercare di dimostrare quello che sappiamo fare in campo con questo è tutto termina qui l'edizione del telegiornale grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi a presto grazie a tutti